La Camera di Commercio Chieti-Pescara mette al centro del suo impegno per il 2021 delle azioni per contrastare la crisi economica derivante dalla pandemia e cavalcare così l'onda del cambiamento e della ripresa economica. Le iniziative poste in essere dall'ente camerale sono state illustrate questa mattina dal vicepresidente Lido Legnini e dal segretario generale Michele De Vita. Soprattutto insistiamo su alcuni settori che oggi stanno soffrendo tantissimo, in particolare tutto il settore, la filiera del turismo, della somministrazione, dell'intrattenimento, dello svago ma anche e soprattutto l'export che con questa pandemia ha subito dei numeri assolutamente negativi rispetto a tutto quello che sta succedendo. Per cui abbiamo deciso anche per il 2021, nella speranza che sia l'anno del rilancio e che in qualche modo questo piano vaccinale arrivi al dunque e quindi ci permetta quantomeno dalla metà di quest'anno di cominciare a riprogrammare, a ripartire, di investire quasi 4 milioni di euro di un bilancio totale sulla promozione e soprattutto indirizzato alle nostre piccole e medie imprese, alle imprese che si metteranno in rete ma comunque a tutto il tessuto economico delle due province. Ci sono delle priorità che avete individuato per questo 2021? Sì, sono molte le priorità perché ci rendiamo conto che stiamo vivendo tutti un periodo altamente drammatico il sistema economico naturalmente è in grossa difficoltà c'è stata una riduzione dell'iscrizione da un anno all'altro del 18% questo già ci dice lunga sulle difficoltà che le imprese e la voglia di fare imprese c'è in questo momento quindi la Camera di Commercio interviene proprio a sostenere le imprese per ripartire quindi continuiamo a sostenere le imprese di tutti i settori a partire ovviamente da quelli in maggior crisi a partire per esempio dal turismo c'è bisogno ovviamente di sostegno che faremo con tutta una serie di iniziative di carattere informativo, formativo, promozionale ci saranno anche quest'anno, sono confermati, voucher diretti alle imprese e questo verrà sia per quanto riguarda il turismo sia per quanto riguarda l'internazionalizzazione e sia per sostenere quelle filiere maggiormente in difficoltà punto centrale del nostro programma è anche la digitalizzazione ormai non possiamo più farne a meno anzi dobbiamo migliorare, dobbiamo sempre più sia come organizzazione sia come sistema imprenditoriale crescere dal punto di vista della digitalizzazione